Buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento quindicinale la mia rubrica dove parlerò del mondo del lavoro di questo mondo che oramai sempre meno se ne parla anzi addirittura i lavoratori parlano sempre meno anche del proprio mondo, del proprio lavoro e sappiamo tutti che buona parte del tempo noi lo trascorriamo della nostra vita lo trascorriamo al lavorare, 8 ore di lavoro più una pausa chi ce l'ha, mensa se non ci sono straordinari da fare eccetera quindi grosso tempo della nostra vita lo trascorriamo lì e ne parliamo sempre meno forse perché siamo sfiduciati forse perché poi non ne vogliamo più sentir parlare o parlare ha finito il nostro orario di lavoro di questo mondo però sta di fatto che tutta l'economia tutto il mondo gira attorno alla produzione a quello che noi produciamo a quello che noi creiamo e questa sera volevo riprendere un po' il discorso sulla sanità è una cosa molto importante questa perché attraverso i contratti collettivi nazionali del lavoro ma spinti soprattutto dal decreto governativo votato anche nel 2017 che fa sì che della spena sanitaria cioè il welfare è così detto sia sempre meno pubblico e sempre più delegato alle mutue e ai contratti aziendali sta di fatto che dal primo gennaio ad oggi ci sono creati già circa 400 mutue legate ai contratti aziendali per cui avremmo delle differenze di trattamento di welfare e quindi anche delle prestazioni sanitarie è quello che ci interessa di più differente tra magari metalmeccanico perché i metalmeccanici hanno preferito metterlo come contratto nazionale mentre per esempio i chimici e energia discuterlo come contratto aziendale cioè di secondo livello per cui noi avremmo differenze anche di trattamento per quanto riguarda la sanità e non per niente anche oggi sul giornale Corriere della Sera appaiono dei dati da una parte allarmanti ma scivolano sempre di fronte all'opinione pubblica ma non mi interessa in generale l'opinione pubblica ma di noi lavoratori cioè degli ultimi a me interessano gli ultimi perché gli ultimi che sono quelli che almeno nel mondo del lavoro creano effettivamente la ricchezza non ne parliamo mai e le nostre organizzazioni sindacali ormai sono sono un tutt'uno con l'azienda e quindi entrano nei consigli di amministrazione delle aziende o fanno queste partecipate associando a queste enti bilaterali che Cremaschi ex sindacalista dice che sono situazioni di finanziamento occulto per le organizzazioni sindacali e sull'ultimo periodo qui in questa settimana ci sono svolte anche assemblee sindacali nelle varie fabbriche dove è stato illustrato questo welfare che cos'è dove si andrà a parare con questa sanità che diventa sempre più sanità privata e non pubblica oggi apparso sul Corriere vi dicevo alcuni dati dove si dice il Corriere dice che ogni 10 euro di spesa pubblica se ne potrebbero risparmiare due se abbolissimo se venissero aboliti gli sprechi nella sanità a parte che non lo so chi fa gli sprechi nella sanità non certamente l'utente finale cioè chi alla fine ne usufruisce di questo servizio ma si faranno i risparmi di sicuro però si peggioreranno le prestazioni sanitarie e infatti l'articolista dice non lo dico io ma confermo questo che a partire dal 2013 i governi hanno programmato quindi è una cosa programmata studiata un contenimento della spesa per la sanità dal 7,1% del PIL dedicato alla sanità al 6,4% previsto per il 2020 dell'ultimo DEF che è il documento di economia e finanza attenzione se voi andate poi a leggere le cifre sembra di Padoan o anche di Renzi dice ma mettiamo più soldi quest'anno dell'anno precedente e poi nel 2018 mettiamo ancora 8 miliardi però in realtà ci facciamo così prendere da queste cifre che sembrano alte però in realtà la destinazione del prodotto interno lordo per la sanità diminuirà di volta in volta e continua l'articolista dice guardando alla spesa pubblica pro capite emerge che in tutta la sua criticità il definanziamento pubblico siamo sotto la media OXE 2469 dollari contro quindi spende l'Italia a 2820 e in Europa 14 paesi investono più dell'Italia in sanità contemporaneamente è aumentata la spesa privata un quadro inquietante emerge dal confronto con i paesi dei G7 dove l'Italia è fanalino di coda per spesa totale e per spesa pubblica ma secondo ma seconda quindi siamo ultimi per la spesa pubblica ma secondi però per la spesa out of pocket che cos'è la spesa out of pocket perché qua ormai si parla tutto in inglese e quindi uno alla fine non ci capisce niente è la spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie testimonianza quindi questa spesa inequivocabile che la politica si è progressivamente sbarazzata di una consistente quota di spesa pubblica scaricandola sui cittadini senza preoccuparsi di riformare in alcun modo la spesa privata intermedia quindi cosa vuol dire questo vuol dire che su circa 35 miliardi di spesa privata all'anno infatti oltre 30 sono sostenuti direttamente dalle famiglie con una spesa pro capite annua di oltre 500 euro e solo 4,5 intermediari da fondi e assicurazioni nascuna sorpresa quindi se i cittadini che hanno rinviato o rinunciano alle cure per difficoltà economica siano aumentati da 9 milioni nel 2012 a 11 milioni nel 2016 e questa cifra viene anche ripresa veniva ripresa giorni fa da Repubblica del 7 giugno dove diceva che 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato a prestazioni sanitarie di questi due terzi di 12 milioni che hanno rinunciato sono effetti da malattie croniche a reddito basso le donne e non gli autosufficienti cioè in pratica i più deboli non solo 7,8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare per le spese sanitarie tutti i propri risparmi ma attenzione o indebitarsi con parenti amici o presso banche o istituti di credito vari e la spesa di tasca propria per la sanità è salita e viene confermato i dati che vi ho letto dall'articolo che è apparso oggi sul Corriere a 35,2 miliardi di euro cioè un più 4,2 nel periodo 2013 e 2016 chi li dice questi dati è lo stesso stato nel settimo rapporto RBD censi sulla sanità in Italia presentata oggi cioè era quindi il 6 giugno perché l'articolo è del 7 giugno sul Welfare Day e poi parla delle lunghe liste di attesa eccetera e la spesa privata quindi diceva e vanno a confermare le cifre apparse quindi due giornali di diversa corrente comunque le cifre sono coerenti diceva che la spesa privata in crescita tutti questi diceva che in tasca propria la gente ha pagato di tasca propria si è passati da 500 euro pro capite che ha circa 1000 euro a testa cioè quindi viene confermato quello che veniva detto l'articolo di oggi dove chi viene colpito chi è più in difficoltà i lavoratori che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private hanno incontrato difficoltà economiche il 74 il 5% delle persone a basso reddito ma anche il 15,6 delle persone benestanti di cui anche qui c'è la suddivisione tra nord e sud dove il sud è più penalizzato i più colpiti guarda caso sono gli anziani allora sappiamo che il welfare aziendale funziona fin tanto che tu sei dipendente di un'azienda che adopera il welfare momento in cui tu vai in pensione al di là della pensione che viene sempre più risicata mentre gli anni di lavoro di contribuzione sono aumentati saremo sono più colpiti proprio gli anziani perché noi non avremo più quel welfare che l'azienda mette a disposizione quindi ci troviamo di colpo di una sanità che dovremmo pagarcela completamente quale soluzioni dà il governo il governo dà una situazione dice creiamo una situazione alla francese un modello francese attualmente il 20% dei italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso una polizza sanitaria integrativa prevista dal proprio contratto nazionale di lavoro o dalla propria azienda o stipulata individualmente ecco perché dice nel corso del welfare day il welfare day era il giorno 6 giugno occorre puntare in un modello di assicurazione sociale integrativa alla francese istituzionalizzando ed esteso a tutti i cittadini quindi istituzionalizzato cioè quasi obbligato ed esteso a tutti i cittadini che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all'anno attraverso i quali integrare il fondo sanitario nazionale dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata fonte di diseguaglianze sociali al cui vi ha affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro servizio sanitario nazionale più sostenibile più equo e veramente inclusivo ecco che cosa ci sta la prospettiva riguardante la sanità non ci sono più soldi lo Stato che ormai fa l'esattore per le banche sappiamo che ha erogato soldi quindi soldi pubblici soldi nostri soprattutto nostri ultimi che lavorano e pagano dalla sanità alla previdenza fino all'ultimo centesimo visto che le trattenute vengono alla fonte direttamente dalle nostre buste paga 20 miliardi per salvare le banche lì chissà perché non ci sono mai sprechi e quindi bisogna salvarle bisogna salvare le banche perché così si salva il sistema e allora lì si va si va a tagliare sulla sanità e si va a stornare si vanno a stornare soldi per le per le banche ma ritornando al welfare che cos'è il welfare il welfare aziendale e questo è un articolo apparso sul manifesto il 21 aprile a cura di Iva Cavicchi dice il welfare aziendale come forse non tutti sanno non è tanto la riproposizione delle vecchie mutue del secondo dopoguerra ma è una forma di welfare tipico dell'economia americana Renzi e i suoi consiglieri economici non si sono inventati nulla di nuovo il welfare on demand ecco torna sempre la parola inglese cioè vuol dire la sanità a domanda si chiama così perché così il welfare aziendale si chiama in America e come funziona questo welfare perché le aziende ci tengono molto ad avere questo welfare aziendale perché avranno degli sgravi fiscali loro perché dice le prestazioni erogate dalle mutue per il welfare aziendale quindi sono completamente deducibili dal reddito d'impresa e non sono più limitate come lo erano precedentemente quindi queste deducibilità del reddito d'impresa rispetto ad una deducibilità limitata al 5 per 1000 del costo del personale con la finanziaria 2017 si sono rafforzati gli incentivi il tetto per i premi viene elevato a 3000 euro anno che diventano 4000 quando i lavoratori vengono coinvolti in modo strutturale nell'organizzazione aziendale quindi i lavoratori non sono i lavoratori sono le organizzazioni sindacali che vengono coinvolte in modo strutturale ecco perché chi è in fabbrica vede sempre più le organizzazioni sindacali che premono perché noi diventiamo cioè ci facciamo il welfare perché se loro coinvolti direttamente aumenta la cifra pro capite se vengono coinvolti in modo strutturale in questo in questo meccanismo non solo nel 2017 quindi con la finanziaria del 2017 si estende l'applicazione alla platea molto più ampia dei lavoratori elevando il tetto di retribuzione solo sotto la quale la misura è applicabile una volta erano 50 mila euro previste nel 2016 ora si passa a 80 mila euro questo fa sì che quadri anche una parte di dirigenti possa entrare nel in questo welfare e quindi diminuisce cioè aumenteranno le agevolazioni le deducibilità del reddito di impresa per le imprese quindi soldi che le aziende possono risparmiare sta di fatto che con questo welfare cioè con questi soldi non monetari ma dati in servizi l'azienda può risparmiare può dedurre fino a 5.164 euro anziché 3.615 di una volta ecco che è spiegato il perché di tutto questo modo di darsi da fare delle parti delle organizzazioni sindacali eccetera per per far sì che il welfare diventi un successo anche nelle aziende ma questo è il disegno un disegno di politica socio-sanitaria illustrato nel libro bianco da ancora il ministro Sacconi del governo Berlusconi e successivamente imposta dalla lettera di Trichet Draghi nell'agosto del 2011 di privatizzare la sanità pubblica in favore quindi dice sempre l'articolista in favore delle speculazioni finanziarie e delle grandi assicurazioni italiane questo è il panorama del welfare della sanità è chiaro che se nessuno si muove nessuno inizia a protestare se nessuno si fa sentire la cosa va avanti ha sprombattuto io volevo qui termino volevo parlare anche di altre cose ma non vorrei sforare più di tanto il tempo gentilmente concesso da Radio Science avremo la possibilità di parlare di altri argomenti come il reddito di cittadinanza ma anche una battuta così tanto per prepararci per la prossima volta che distribuire soldi con gli elicotteri per risolvere la situazione della crisi economica data da sovraccapacità produttiva ecco ne parleremo la prossima volta se non ci saranno argomenti pressanti e imminenti quindi vi saluto tutti vi ringrazio dell'attenzione e fra 15 giorni ci sentiremo ancora ciao a tutti a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti